nuova declist ragazzi ed oggi parliamo di dragon ball e lo facciamo con due mazzi abbastanza particolari perché ci saranno due mazzi legati ci sarà questo che presentiamo oggi e il prossimo che verrà oggi parleremo di acciac e la prossima volta di androidi ma andiamo a vedere il protagonista di oggi ovvero dottor lici e ajac personaggio abbastanza particolare il suo continuo fa sì che potremmo giocare solo carte combattimento nere e questa carta non può attaccare quindi già iniziamo a vedere qualcosa che va a vincolare fortemente la costruzione del nostro mazzo e che ci fa già intuire sarà già una strategia molto particolare cosa che ci piace tantissimo la sua auto quando una carta combattimento attacca il giocatore di turno non può attaccare con altre pedine o altre carte combattimento con costo di energia pari o inferiore a 7 fino alla fine del turno quindi già qui viene messa un vincolo praticamente in che va a stabilire una sequenza di potenziali attacchi addirittura di non attacchi nel caso in cui non si possa sfruttare al meglio questo vincolo abbiamo un attivazione durante la fase principale che funziona una volta per turno metti la prima carta del tuo mazzo sotto questa carta metti la prima carta del tuo mazzo nella tua area degli scarti poi pesca una carta il risveglio se hai solo energia nere scegli tre carte sotto questa carta e mettile nell'area degli scarti dei loro proprietari puoi pescare una carta e gira questa carta e si trasforma in acciac malvagità assimilata passiamo da 10.000 a 15.000 il suo continuo puoi giocare solo carte combattimento nere quindi torniamo già parte dei vincoli visti prima le sue due auto la prima quando una carta combattimento attacca il giocatore di turno non può attaccare con altre pedine o altre carte combattimento con costo di energia pari inferiore a 7 fino alla fine del turno inoltre quando questa carta attacca essa ottiene più 5.000 di potenza fino alla fine del turno e peschi una carta quindi cartina molto molto interessante che accompagniamo già al 3x di una terreno che è il pianeta oscuro la sua auto fa sì che quando questa carta viene messa in un'area di combattimento scegli una carta guerriero fantasma dal tuo mazzo e aggiungerà la tua mano poi mischi il tuo mazzo la sua altra auto la tua carta leader è una carta macchina mutante andiamo a vedere se effettivamente eh sì abbiamo una macchina mutante come leader alla fine del tuo turno metti le prime due carte del tuo mazzo nella tua pila degli scarti quindi già è in dubbio che il mazzo avrà un'altissima interazione non solo con il control ma anche con la pila degli scarti parlando di control troviamo due copie di cami unificatore globale carta non soltanto dotata di deviare ma anche di una potenziale non indifferente nonostante abbia un basso potenziale offensivo ragazzi il suo effetto ci permette veramente di ripulire il campo eh qualora ci trovassimo davanti mazzi che cercano di sciamare il più possibile ovviamente ragazzi parliamo di costi eh pari o inferiori a quattro sulle battle cars del nostro avversario abbiamo due copie del dottor leach nascita del rancore è un bloccante quindi può andare fondamentalmente ad intromettersi in un attacco e spostare su se stesso il bersaglio dell'attacco e anche un auto quando questa carta viene msko scegli fino a una carta guerriero fantasma dalla tua mano e giocala quindi anche qui già l'interazione con i guerrieri fantasma sopra citati parlavamo di fare tanta opera di control giochiamo ben eh sei carte che hanno la possibilità di negare attacco eh di cui due con le gambe quindi abbiamo due copie di son Goku entrata teatrale e quattro esplosione di forza con la possibilità di andare a recuperare eh eventualmente qualcuno dei nostri costi uno nero nella nostra eh area degli scarti sempre in termini di opere di control ragazzi abbiamo una svolta inospettata e super kamehameha che limitano praticamente il risultato delle giocate del nostro avversario cercando magari di fargli saltare pezzi più importanti o più strategici in quattro copie invece troviamo god gardon difensore eh la nostra super combo classica da diecimila con diecimila di scudo e la possibilità nel momento in cui abbiamo quattro vite o meno di andare a pescare una carta nel momento in cui combiamo con questa ovviamente ricordiamo solo quattro è il numero delle super combo che possiamo ottenere in un mazzo parlavamo poi sempre di buone opere di controllo del gioco e allora giochiamo due copie di son Goku distruttore della crisi che non solo grazie al suo primo continuo può scendere a costo ridotto nella condizione ideale ma può anche già iniziare a limitare i primi piccoli attacchi o giocate particolari perché perché le carte combattimento con costo di energia pari a 1 non possono attaccare quindi già va a creare delle limitazioni inoltre ricordiamoci che una volta per turno potremo scegliere fino a carta combattimento del nostro avversario con costo di energia pari a 1 e metterla a ko quindi niente male anche questo costo 3 da 5k lo giochiamo in due copie abbiamo poi anche kawazu difensori io spero che non me ne vogliano tutti gli iper appassionati se mi pronuncio e non saranno il massimo purtroppo devo dire che come personaggi non sono molto preparato su alcuni nomi mentre mi intriga veramente tanto questa strategia che va a sfruttare non solo un'opera di controlla fortissima sulle giocate del nostro avversario ma anche un'interazione con l'area degli scarti non indifferente qui abbiamo un altro pezzo che può scendere a costo ridotto ma non solo che ci aiuta a macinare praticamente il nostro mazzo per andare poi in pescata breve vedremo il perché di tutto questo macinare quattro copie per dottor lici lo spirito scomparso è un bloccante quando giochiamo questa carta potremmo mettere le prime due carte del nostro mazzo nell'area degli scarti inoltre abbiamo la possibilità di utilizzare la sua attivazione durante la fase principale pagando 2 se la nostra carta leader è una carta macchina mutante nera potremo giocare questa carta dall'area degli scarti fondamentalmente a meno che trovi nel modo di varparcelo ragazzi abbiamo un bloccante che torna sempre a farci visita sul campo e a darci manforte tre copie di questa spettacolare promo ragazzi qui l'artwork al bacio proprio abbiamo il tre per di tarles l'implacabile guerriero fantasma ha 5 come potenza combo 10.000 il suo potere offensivo doppio attacco il che praticamente gli consente già in parte di aggirare una delle limitazioni per la quale non dovremmo poter poi riattaccare invece grazie al suo doppio attacco possiamo farlo attaccare due volte questa cosa mi piace tantissimo poi in attivazione principale potremo scegliere due carte combattimento nere con costo di energia compreso fra 3 e 7 dalla nostra area degli scarti e metterle in fondo al mazzo in qualsiasi ordine dopodichè potremo giocare questa carta dalla mano ebbene sì tutto il macinare che abbiamo creato nella nostra area degli scarti ha proprio questo scopo o eventualmente andare a rebornare lui tramite il suo stesso effetto così come potremmo vedremo poi per un'altra carta oppure la possibilità veramente di andare a calare giù pezzi veramente easy tramite questa struttura ovvero quella di rimettere in fondo al mazzo pezzi che abbiano costo dal 3 al 7 e non è veramente una cosa impossibile ed ingestibile anzi questo mazzo proprio ci sguazza alla grande ragazzi poi abbiamo anche l'attivazione combattimento funziona una volta per turno potremo scegliere una carta dalla mano e metterla nell'area degli scarti e questa carta si becca un bel più 5.000 fino alla fine del turno quindi potenzialmente è un 15.000 che picchia e ripicchia 3 copie andiamo a vedere poi i nostri 4 lasciando le bombe in fondo abbiamo 4 copie di Hachiac potere inafferrabile anche lui ha la possibilità praticamente di entrare in campo in modo agevolato ok? con lo stesso principio che abbiamo visto prima così come sarà per tutte le altre carte che andremo a vedere dopo ma ha una sua particolarità non indifferente il fatto che pagando 4 durante l'attivazione principale se la nostra carta leader è una carta macchina mutante nera potremo scegliere un Hachiac alimentato da odio nella nostra area degli scarti e giocarlo sopra questa carta quindi facciamo un piccolo salto temporale abbiamo visto il 4x di questa carta che si accompagna al 3x di questa carta che ha doppio attacco un continuo interessante se la tua carta leader è una carta macchina mutante nera aumenta di 3 il costo di energia di questa carta quindi ragazzi conta come un 8 quindi ha voglia che può attaccare prepotentemente la sua auto metti questa carta nell'area degli scarti del suo proprietario quando una carta combattimento del tuo avversario attacca annulla l'attacco quindi la possibilità poi farci su un bel reciclo inoltre attivazione in fase principale una volta per turno scegli 3 carte combattimento nere con costo di energia compreso tra 3 e 7 della tua area degli scarti e mettile in fondo al massimo in quel stesso ordine scegli fino alla carta combattimento del tuo avversario ignorando barriera e mandala nel warp del proprietario quindi un bel 25.000 che picchia 10.000 sul potenziale di combo ricordiamoci picchia due volte fa da rimozione è veramente una bomba assurda ma prima di andare alla carta conclusiva del mazzo andiamo a vedere gli altri costi 4 abbiamo cooler guerriero fantasma anche lui dicevamo stessa metodologia per la possibilità di giocarlo praticamente a costo ridotto ovvero senza dover pagare delle energie e in più anche un'attivazione in combattimento metti questa carta nell'area degli scarti del suo proprietario scegli una carta combattimento del tuo avversario e si ottiene a meno 10.000 di potenza fino alla fine del turno quindi cosa molto molto interessante 3 copie 3 copie per Lord Slug guerriero fantasma quindi comunque andiamo a riportare il fatto dei vari guerrieri fantasma che possiamo eventualmente anche andarci a tutorare attivazione principale metti questa carta nell'area degli scarti del suo proprietario scegli una carta combattimento del tuo avversario con costo di energia pari o inferiore all'attuale energia del tuo avversario e mandala nel warp del proprietario bella rimozione secca ci piace tantissimo abbiamo Tarles guerriero fantasma la giochiamo in 2 copie nella sua attivazione principale possiamo vedere metti questa carta nell'area degli scarti del suo proprietario scegli fino a una carta combattimento dall'area degli scarti del tuo avversario e mandala nel suo warp quindi potenzialmente una carta che va a limitare strategie simili o che comunque vanno ad abusare dall'area degli scarti vedi togliamo proprio il pensiero del tutto incontriamo un'altra promo interessante che è Son Goku Super Saiyan God talento divino eccolo qua costo 4 5 mila su potenziale di combo 20k ragazzi potenziale offensivo doppio colpo quindi infligge due danni invece di uno quando attacca in attivazione principale pagando un'energia e mettendo questa carta dalla tua mano nell'area degli scarti potremmo far sì che sceglieremo una carta combattimento del nostro avversario con costo di energia pari o inferiore a 2 e andremo a mettere a K.O ok non solo abbiamo anche un'auto quando giochi questa carta scegli fino a una carta combattimento del tuo avversario e mandala nel VARP del suo proprietario così D'Amblè per simpatia uno dei ciccioni del nostro mazzo che giochiamo in 3 per l'abbiamo già visto a conclusione di questa lista arriva ragazzi Fu banditore dell'oscurità che è potenzialmente uno dei closer del mazzo nel caso in cui ci fosse ancora closer da dover fare giochiamo monocopia tech a triplo attacco quindi pesta 3 volte costo 8 quindi non si pone proprio il problema scende in modo agevolato perché tra l'altro con tutta l'interazione che abbiamo con il nostro con la nostra area degli scarti andare in Reame Supremo 8 e pagare 4 per giocarlo è veramente un attimo continuo interessante che il tuo avversario non può attivare abilità a meno che scelga una carta dalla sua mano e la mandi nel suo warp quindi fondamentalmente ragazzi andiamo a limitare tantissimo anche le difese che dire mazzo veramente bomba all black ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!